Bella a tutti ragazzoli e benvenuti nell'ottavo episodio della nostra Master League su PES 4 Signori, veniamo nello scorso video in cui abbiamo vinto 1-0 in zona Cesarini con un gol di Ciaramitaro Spettacolare, signori Andiamo a vedere un attimino la classifica, è cambiato qualcosa? No, siamo sempre terzi Abbiamo distanziato un attimino il Getafe Ma manteniamo sempre gli stessi punti di distacco su Rennes e Siviglia Va bene, ma il campionato è ancora a lungo, signori Oggi ci rispetta una partita di Coppa, il ritorno di Coppa, signori L'andata l'abbiamo vinta 1-0, quindi vediamo un attimino di portarci a casa anche la vittoria oggi Contro normalmente il Den Bosch, che hanno forse sicuramente il dente avvelenato contro di noi Per la sconfitta che hanno subito nello scorso video in zona Cesarini Un gol al 95esimo forse, però va bene, non ce ne frega niente, non ci siamo portati a casa la vittoria L'andata dovremmo averla vinta 1-0, se non ricordo male Quindi si punta al passaggio di turno, signori Ora vediamo un attimino se lui mi fa un attimino il recap del risultato dell'andata Che non ricordo minimamente Spunta in alto da qualche parte? No, non spunta da nessuna parte, signori Quindi di conseguenza si scende in campo e dobbiamo cercare di... La stessa formazione, sì, che li ha battuti in campionato, signori E Pefsel, grandissimo Pefsel, c'è Ramitaro, c'è Ramitaro, vi vede subito Lucarelli Lucarelli che vede Rossetti, Rossetti, mannaggia Non è riuscito a liberarsi per il tiro Del tongo Oh, del tongo mio, ti sei fatto prendere troppo dal canto della curva Bello l'intervento, ma l'albrio gli lascia il vantaggio Oh, non lo so, si sta a fare tutto il campo dritto per dritto, signori Io capisco tutto Passoni, 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 mamma mia Proprio buttato, scaraventato a terra in maniera violenta Ancora del tongo, del tongo La violenza su passoni, signori Mi sembra un po' esagerato Inizio partita, subito così Partire con questa violenza mi sembra un attimino esagerato Al centrocampo c'hanno un mastino questi Attenzione, attenzione, ancora passoni No, Rossetti, Rossetti, che vede Lucarelli Che si accelera al limite dell'aria Cerca l'angolino, ma non riesce a trovare il gol Livorno vicinissimo al vantaggio Al diciassettesimo minuto del primo tempo Buono così, buono così Grandissimo del tongo nell'anticipo Pallone per Lucarelli Lucarelli fa fuori il difensore Però riesce comunque a mantenere il pallone Gambardoni, Gambardoni, Gambardoni Entra in aria, Gambardoni Sfortunato Tiro rimpallato al difensore Rimpalla su di lui E la palla finisce in rimessa Da fondo L'invio del portiere Niente da fare Eh, non è vero Ma non era fallo mai nella vita, signori Ma non era fallo mai nella vita Ma stiamo scherzando che questo era fallo Ma fallo del t Del tongo, attenzione Del tongo per Rossetti Che questa volta si ferma Rossetti cerca Lucarelli Cerca Lucarelli Cerca Lucarelli Che cerca il movimento Ma non li riesce Ci voleva il passaggio Attenzione ancora Loro cercano di guadagnare Bello Bello l'anticipo Si è allungato tutto E l'ha anticipato Ma noi siamo più bravi E a centrocampo Ricopriamo il pallone No Oh dai però Lucarelli buttato giù Lucarelli buttato giù Giustamente loro Sono più cattivi Devono recuperare il gol Dello svantaggio Grande Passoni mio Però Credici Se recuperi un pallone Ci devi credere Passo Che cazzo la fai I passi di danza Grandissimo Lucarelli Che non so Che cazzo la ci faccia lì Che vede Rossetti Rossetti Che rivede Lucarelli Che la tocca Malissimo Va la palla però Arriva Rossetti 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 Perché non oba 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 Li è accelerato In una maniera terribile Passoni 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 mio Mannaggia Passoni mio Mannaggia 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 Il ragazzo è ancora È ancora grezzo Signore 19 anni Però sta crescendo bene Il ragazzo è grezzo Però sta crescendo bene Sta crescendo bene A noi A noi interessa questo Interessa questo Che comunque cresca bene Perché un futuro Andata sì L'andata l'abbiamo vinto 1-0 Visto di sfuggire il risultato Signore Visto di sfuggire il risultato L'andata l'abbiamo vinto 1-0 Il problema è Che non possiamo Rischiare Perché se questi Ci fanno un grandissimo Ceramitaro Ceramitaro è tanta roba Comunque Ceramitaro mi sta piacendo tantissimo Come gioco su quella fascia Sarà che sarà uno dei pochi Che manterremo in tutta la serie Poi non lo so Poi non si possono mai sapere Guarda come gioca bene Mannaggia Passaggio sbagliato per Passoni Attenzione A profondità Ancora Serie di batti e ribatti Sulla fascia sinistra Siete in due Perché siete in due Se voi siete in due Vuol dire che ne manca qualcuno al centro Mannaggia alle vostre sorelle Esce Amelia Amelia Hai le mani per acchiapparli i palloni Non per respingerli così In maniera brutta Calma Gambardoni 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 Lento come poche cose al mondo Cerca Rossetti 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 L'apre per Ceramitaro Cerca un passaggio per Lucarelli Che lo trova Lucarelli Mamma mia Come l'ha tirata male Appena fuori Cazzola L'ha tirata proprio male Se questa era una appena fuori Porca miseria L'ha tirata proprio male Attenzione Rinvio del portiere Non riusciamo a conquistare il pallone al centro campo Lo conquistano loro Combattiamo Pallone lungo la fascia Un intervento rischiosissimo Attenzione 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 Ancora Ancora Loro Niente Loro hanno guadagnato il centro campo Signori Loro hanno guadagnato il centro campo Ma noi lo riconquistiamo Col Ceramitaro No No Frazione di pochi secondi Ma ancora Una partita combattutissima Rossetti Vediamo se riesce a fare qualcosa interessante Lucarelli Cazzola ci fa Lui Lucarelli Signori Mi avete detto che Lucarelli Mi avete detto che Lucarelli deve giocare come Toni Quindi bello davanti A tenere palloni Però se lui non ci sta Attenzione Rossetti Si è fatto anticipare Rossetti In una maniera proprio Da giocatore Dilettante Lucarelli Lucarelli Ma Già questa volta anche Lucarelli Si è fatto anticipare Uuuuh Pallone per vie centrali Attenzione Attenzione Arriva davanti l'aria Arriva dentro l'aria Mamma mia L'ho vista dentro Slup Slup Vicinissima Del vantaggio Nonché del pareggio Riesce a giocarla Siamo all'ottantaduesimo Signori Dobbiamo tenere Dobbiamo tenere E inizia la zona in cui loro hanno paura Inizia la zona in cui loro hanno paura Perché l'altra volta gli abbiamo segnato il gol In zona Cesarini Nannaggia Ottantaseesimo Ottantaseesimo Stiamo attenti a non farci rifare A non farci ricambiare il favore Signori Stiamo attenti a non farci ricambiare il favore Stiamo attenti a non farci ricambiare il favore Stiamo attenti a non far segnare loro Signori Sarebbe un grosso problema Inutile il recupero Inutile il recupero Pallone per Ciaramitaro Che non arriva Finisce 0-0 Ma il Livorno L'importante è che passiamo il turno Signori L'andata vinta 1-0 Un pareggio 0-0 Non Con pochissime emozioni Però Però Signori Però A noi ci importava Portarci a casa il passaggio del turno E questo abbiamo ottenuto E questo abbiamo ottenuto Va bene così Va bene così L'andata l'abbiamo vinto 1-0 Quindi passiamo il turno in coppa Puntiamo alla finale Non lo so Però già che siamo passati Signori Questa È una cosa importante È una cosa importante Guadagniamo altri bei punticini 420 Siamo a 14.940 I nostri giocatori salgono Da così Qualcuno che migliora drasticamente Ciaramitaro migliora Migliora in tanti parametri Ciaramitaro Grande Ciaramitaro Gambardoni Ancora no Rossetti Precisione tiro Precisione tiro 73 Dai Rossetti Che nel prossimo giro Migliori ancora di più Dai così Signori Questa 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 serie Sta andando bene Sta andando bene Signori Sta andando bene Detto questo Lui sta salvando Lui ormai salva A prescindere Nel dubbio Lui salva Nel dubbio Lui salva Detto questo Signori Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Non ci interessano Questa cagata Signori Vogliamo arrivare al mercato Vogliamo arrivare al mercato Che poi noi Dedicheremo un episodio Solo per il mercato Signori Decisamente sì Informazione di partita di campionato No Volevo il calendario Sì Abbiamo la prossima partita Che è contro il Getafe Sì Contro il Getafe Ok E poi ci sarà un video Dedicato completamente al mercato Detto questo Signori Vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suoi genitori E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao 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 Ciao